Abbiamo detto che l'anno scorso l'abbiamo fatto ottobre la rassegna. Fondamentalmente andavano un po' ad accavallarsi con la rassegna caffeina e incontra la danza presente sul territorio, quindi in provincia. Quindi tanti comuni, famiglia della provincia, aderiscono a questa rassegna. Essendo sempre la rassegna di danza contemporanea, ci sembrava giusto fare in modo di allargare un po' l'acqua temporale, in modo tale che non si accavallassero l'evento. Effettivamente durante la rassegna di ottobre ci sono state anche delle giornate dove l'evento delle due rassegne caffeine, meravigliate danze, caffeine incontra la danza, coincidevano nella stessa giornata. Quindi ci è sembrato giusto dare l'opportunità, soprattutto agli cittadini, di poter usufruire in maniera un pochino più tranquilla su un'acqua temporale e proprio più largo. Ed è per di manifestazioni, noi stessi invece tutto facciamo alcune cose, poi c'è un di danza oltre che è un festival di grande, di alto storico perché ha superato i 30 anni. Nella città di Brescia, dove noi abbiamo comunque la sede, avevamo un festival di danza, poi si sono tramutati in circuito musiciclinare per cui ancora qualcosa facciamo a un festival e in regione c'è molto poco. Quindi cogliendo al balzo questa importante opportunità, visto che noi come circuito musiciclinare ci occupiamo di teatro, danza, ci occupiamo di musica e quindi è una delle arti, tra l'altro e questo personalmente io prendo in modo particolare e quindi cerchiamo di far diventare questo un punto di attrazione anche in qualche modo, ma in modo che qua ci siano degli spettacoli per cui non solo la gente liberata che ovviamente è la prima unità da partecipare.